It's the most wonderful time of the year Ho appena visto Occhio di Falco, le prime due puntate in onda ora su Disney Plus Wabalabadabab e bentornati, sono Mamamazzo, bentornati nella rubrica Marvel, bentornati nella rubrica Serie TV Come un fulmine al cielo sereno, soprattutto per me che non avevo ancora realizzato che fossimo a fine novembre E' uscita la serie Occhio di Falco, Hawk Eye, che come abbiamo visto anche dai trailer è ad ambientazione new yorkese E' ad ambientazione natalizia e ci mostra un'avventura che ricorda molto i fumetti, credo del 2015 Che hanno avuto un grandissimo successo, con protagonisti appunto Occhio di Falco e il nuovo personaggio, allora il nuovo personaggio di Kate Bishop Prima di cominciare se ancora non lo avete fatto vi chiedo di iscrivervi al mio canale, di mettere un bel mi piace O un non mi piace a questo video e anche a tutti gli altri che vi frega Di condividere il video con tutte le persone che conoscete che hanno un'ottima mira E di commentare qui sotto con quello che viene parso di queste due puntate, questi due primi episodi E di scrivermi anche cosa vi aspettate dal resto della serie Vi ricordo anche di seguirmi sugli altri miei social in modo che potete rimanere aggiornati su tutto quello che faccio In particolar modo Instagram e Twitch Allora, al netto delle serie con cui è stato, diciamo, introdotto il 2021 Ovvero al netto di Pandavision che è stata molto molto bella dal punto di vista Della sperimentazione tecnica Sperimentazione tecnica, oddio, dell'omaggio Sperimentazione tecnica è una parola grossa Dell'omaggio a tutte le varie decadi televisive Quindi da questo punto di vista intendo è stato un po' originale Ha osato iniziare con delle puntate in bianco e nero, eccetera E poi, come tutti sappiamo, si è un po' persa nel finale dove ha tirato il freno a mano Al netto di Falcon and the Winter Soldier Che è stata forse la serie più lineare E per questo magari a molti non è piaciuta E anche perché magari non aveva dei grossi nemici carismatici Marvel, sai che novità E al netto di Loki che può avere dell'uso molte aspettative Perché molte puntate si percepivano di più filler rispetto che anche le altre serie Anche se in generale un po' tutte le serie hanno avuto molti filler E ci sono state davvero delle incongruenze a livello di narrazione Al netto di queste tre serie Che comunque io non getterei via Mi sono piaciute e me le sono godute Questo occhio di falco mi sta entusiasmando Nel senso che banalmente non avevo assolutamente voglia quest'anno Nemmeno di fare gli addobbi di Natale Però devo dire che questa ambientazione new yorkese natalizia Con un occhio di falco molto cinico Che sta cercando di passare del tempo con la propria famiglia Ma ha ancora il peso dei suoi ricordi Con Natasha Romanoff Che è stato in un certo senso costretto a lasciar morire Per poter raggiungere la gemma dell'anima E sconfiggere Thanos E il peso di tutto quello che ha fatto quando era nei panni di Ronin Insomma tutta questa ambientazione qua mi ha fatto un po' Entrare un po' nello spirito natalizio Insomma se ha voglia Clint di festeggiare il Natale Chi sono io per non farlo Un'altra cosa che mi è piaciuta molto è che il personaggio di Kate Bishop Ha delle battute molto azzeccate È molto divertente come personaggio Mi piace come porti avanti il tutto È un po' lo Spider-Man che non ho mai visto nel Marvel Cinematic Universe Ha un po' questo sarcasmo, questa ironia che manca allo Spider-Man dell'MCU Anche il rapporto mentore e protetto tra Occhio di Falco e Kate Bishop È quello che avremmo potuto vedere Tra Iron Man e Spider-Man nel Marvel Cinematic Universe Ma invece c'è stato sempre un rapporto di sudditanza Di reverenza, di oh scusi Mr. Stark ho sbagliato Qua invece vediamo una ragazzina che sbaglia Ma nasconde diciamo la sua paura Il suo terrore di aver fatto cose molto gravi Con l'umorismo e questo è quello che mi è mancato Per esempio nello Spider-Man E vedere questo rapporto con l'ambientazione tipicamente newyorkese Mi ha davvero entusiasmato Purtroppo però non è priva di difetti E considerando che siamo solo ai primi due episodi La cosa mi dà un pochino da pensare Per esempio sicuramente mi sarò distratto Quando non ho capito perché i russi in tuta Conoscono il nome di Kate Bishop E l'associano a Ronin Probabilmente in quel momento mi sono distratto Ma comunque non capisco perché I russi in tuta ce l'abbiano con Occhio di Falco E vadano a cercarlo Nonostante A. Nessuno sappia che Occhio di Falco è stato Ronin E B. Tutti sono al corrente del volto di Occhio di Falco E lo riconoscono per strada a quanto pare Quindi se nessuno sa dell'identità di Ronin In teoria non dovrebbero saperlo neanche i russi Se però i russi e tutti i vari gang che Ronin ha sconfitto in passato Invece sono al corrente del volto di Ronin per qualche ragione E dato che Clint Barton è famoso Avrebbero dovuto collegare subito che Occhio di Falco è stato anche Ronin Però non si capisce molto questa cosa Ho già cercato un attimino di risolverla con qualche battuta Ma non mi è piaciuta molto Ho detto se questa è già la scrittura dei primi due episodi Così zoppicante come se avessero dovuto metterci una pezza in corso d'opera Chissà più avanti Però ripeto magari mi sono distratto io Non lo so Però vabbè Finale in cui abbiamo visto il personaggio di Echo Che è un personaggio che abbiamo visto nei fumetti di Daredevil Anzi magari poi vi metto qua sotto in descrizione Se trovo i link Amazon Ve li metto Se no ve li faccio comunque vedere La serie si ispira chiaramente anche a livello visivo Se notate il logo e i titoli di testa Sono esattamente come il numero uno di Occhio di Falco Numero appunto di cui parlavo prima Uscito qua in Italia nel 2013 Non nel 2015 ho sbagliato E invece il personaggio di Echo Che dovrebbe diventare appunto l'antagonista di questa storia La trovate in Daredevil O Devil che dir si voglia Parti di un buco Non so perché il titolo sia così strano È un personaggio davvero interessante Perché ha una memoria Iedetica Una memoria visiva Ovvero tutto quello che lei vede Lo impara E lo può riprodurre Ed è agile quanto Daredevil Nota molto particolare È una non udente È sorda Di conseguenza è stata un'ottima accoppiata Con Daredevil Che invece è non vedente È stato molto bello vederli collaborare E poi combattere È una storia un po' che ha ricordato Il rapporto tra Daredevil ed Electra Dove loro due si innamorano Ma poi si combattono Soprattutto Daredevil e Electra Nel film del 2003 Ha ricordato un po' questo tipo di rapporto È stata come una Una Electra di serie B Diciamo che hanno introdotto Ma è un personaggio Molto molto interessante Mentre qua È altrettanto interessante Perché appunto Echo è sorda E Clint Barton Se avete notato Nei primi episodi Sta indossando un apparecchio acustico Sta iniziando a perdere l'udito A causa delle varie esplosioni Che ci sono state In tutte le sue missioni Non escludo che Se per caso Echo e Occhio di Falco Si possano alleare Echo potrebbe insegnare a Clint A combattere Nonostante Non abbia l'udito Potrebbe essere un risvolto interessante Magari per combattere Un nemico comune Un nemico comune Che comanda delle gang A New York Che è nemico di Echo Potrebbe essere Wilson Fisk Effettivamente Ma non voglio fare Uno di quelli che dicono Ah speriamo che ci sia Wilson Fisk Speriamo che ci sia Vincent D'Onofrio Non me ne frega un cazzo Se c'è Tanto riguadagnato Ma se non c'è E la serie continua così A parte queste incongruenze Che non mi sono tornate molto Va benissimo Mi sta piacendo Però ecco Devo dire che Non capisco perché Clint sia così ossessionato Tutto un tratto Da questo costume Quando non poteva Invece Pensarci subito Di eliminare Questo costume Che sta mettendo Nei guai della gente È un pretesto Un po' strano Avrei preferito che Come avevo evinto Dal trailer Che Occhio di Falco Si trattenesse a New York Per togliere Dalle grande Kate Bishop Invece Sembra quasi Che voglia sbolognare Kate Bishop Non appena Non ha più Il costume tra le mani Per poi occuparsi Del costume Ed è Kate Bishop A tornare da Da Occhio di Falco Per rimettersi Nei guai insieme a lui Mentre Occhio di Falco La respinge Che la respinga È naturale Come carattere Del personaggio Ma avrei Diciamo Imbastito Il fatto che fossero Legati a doppio filo Kate e Occhio di Falco In una maniera Un po' diversa Però Vediamo come procede Magari la serie Ingranerà di più Però ecco Come clima Generale Non intendo solo Quello natalizio Come clima generale Occhio di Falco Mi sta piacendo E a voi Sta piacendo Scrivetemelo qua sotto Nei commenti Fatemelo sapere Così ne discutiamo Insieme Io come sempre Vi ringrazio Per avermi seguito Fino a qui Con l'inchino E con le muto Vi saluto Vi dico Arrivederci Al prossimo video